buonasera a tutti e benvenuti alla 193esima serata di l'odi liberale che ormai da nove anni ci accompagna via compagna ogni lunedì sera da due anni e mezzo sostanzialmente da settembre 2020 che abbiamo deciso di appunto intensificare le nostre anzi per la verità un po prima luglio insomma intensificare le nostre serate passando da una ogni tre settimane a una ogni settimana facciamo perché crediamo che sia fondamentale conoscere il pensiero a cui tutti siamo come dire legati affezionati che abbiamo letto conosciuto ma che crediamo che nell'ambito del dibattito pubblico ma anche nel persone che hanno anche un livello di conoscenza istruzione eccetera anche elevato questo pensiero il pensiero liberale nelle tutte le sue articolazioni scuola ostilica scuola di chicago liberale democratico liberali classici lignac ci sono tutte le varie facettature che ha questo pensiero sia poco noto molto strumentalizzato molto caricaturizzato e invece non spiegato nella sua realtà nella sua essenza e quindi nell'importanza che dovrebbe avere un dibattito pubblico crediamo che un momento a maggior ragione un momento come questo sia fondamentale conoscerlo diffonderlo lo facciamo tendenzialmente in due modi operativi e in tre modi di contenuti due modi operativi sono ovviamente alternando serate in presenza serate su zoom quelle prevalenti sono su zoom per tutta una serie di motivi ma torneremo in presenza il prossimo sarà il 14 novembre in presenza all'oggi per quanto riguarda i contenuti lo facciamo in tre cicli sostanzialmente il primo e il terzo luglio del mese presentiamo i classici del pensiero liberale come questa sera perché crediamo che partire o ripartire dai classici sia fondamentale perché appunto è un pensiero che è ricco e ancora utile per la contemporaneità per il dibattito pubblico ma anche semplicemente per un arricchimento personale che possa come dire fornire una sorta di corazza intellettuale contro demagogie populismi schematismi e semplificazioni varie secondo il quarto lunedì del mese lo presentiamo libri contemporanei legati all'attualità di carattere storico e quando il mese a 5 lunedì presentiamo figure di statisti liberali che sono stati pochi nella storia ma quelli che sono stati sono stati rilevati abbiamo qui alle spalle due ronald regal margaret thatcher con abbiamo già dedicato due serate come a vark la vavel a winston churchill a cabur e a fine ottobre presenteremo il libro benessere per tutti di ludwig erar che è stato un protagonista della rinascita della germania allora occidentale che cosa facciamo oggi oggi presentiamo una pubblicazione di qualche anno fa che è questo questo libro la conclusione del sistema marxiano di bomba ver curato dal professor cubetto che di un testo fondamentale definito già classico anche nella presentazione perché tale è di cui esistevano già traduzioni nel corso degli anni molti molti decenni all'interno di volumi e qualche anno fa venne pubblicata nella collana credo etas in il volume ma insomma questo libro è importante per tutta una serie di ragioni primo per la bellissima densissima e quasi equivalente alla durata del alla lunghezza del volume prefazione del professor cubetto che è un cultore un diffusore della scuola austriaca da sempre è stato uno dei primi a introdurla nel nostro paese e insomma bomba ver che è fondamentale da questo punto di vista secondo perché l'autore in un poche poche decine di pagine poi alla fine fa un'opera assolutamente merito ognuno cioè la conclusione del sistema marxiano vuol dire che sostanzialmente è stato grazie a questo volume come tanti altri ma questo in particolare smontato logicamente culturalmente razionalmente distrutto peraltro con un merito incredibile che ti abbia la sana voglia di non affrontare la lettura di tutti i volumi di marx capitale di marx ma post può tranquillamente fare riferimento primi due capitoli di questo volume di bomba ver per avere una sintesi perfetta delle teorie come dire economiche contenute nel volume e poi dedica i due capitoli successivi a smontare direttamente le idee di marx e poi una sorta di semplificazione diffusione da parte di insomma è un volume bello è un volume non di facile lettura questo non mi sembra abbastanza evidente ma siamo certi che lo ascolteremo lo comprenderemo e saremo stimolati alla lettura grazie ai nostri relatori che come al solito sono particolarmente di livello e desti particolarmente come dire competenti in merito del professor cubetto è ormai un amico di l'ordine liberale da dal 2014 e quindi oggi ci tiene a essere presentato come fello dell'istituto bruno leoni è stato professore assolutamente stimato all'università di pisa il insieme a noi ci sono il professor due persone sostanzialmente due relatori luogo che non sono mai venuti all'ordine liberale e che speriamo sia solo la prima di una lunga serie ovvero il professor avanelli che insegna storia del pensiero economico all'università di torino buonasera professore e il professor valerio filosofo che insegna scienze di finanza l'università di studi di napoli il mondo rubetto è appunto era professore di filosofia politica io prima di ascoltare i relatori che credo ci faranno immergere in questo volume e quindi qualunque amico abbiate perché il problema vero che noi diamo per scontato di comunità ormai non c'è più nessuno che si definisce marxista ma al netto di quello purtroppo non è così nel senso che ci sono ancora persone che credono che il marxismo sia una dottrina scientifica sia una dottrina che abbia un certo valore che non sia magari mai stata applicata ma che abbia un suo contenuto di conoscenza ma soprattutto ci sono molti che come dire sulla base di stupidate introdotte da parte di questo di questo gigante del pensiero perché tali era poi continuano a commettere errori nel corso del tempo e anche oggi quindi credo che la sintesi del rubando le parole di bomba perché prima di poi lasciare la parola giovanni pavanelli sono quelle che sono quasi definitive o marx ha affermato la sua legge del valore rivendicando nella corrispondenza con la realtà e allora in questo senso tale legge è falsa oppure marx non sostiene che abbia essa abbia una validità reale allora a mio parere non è possibile concepire un senso in cui potrebbe condurre un esistenza scientificamente rilevante dal punto di vista pratico e teorica essa non vale nulla e in più e poi davvero certo la parola la ragione per cui ho combattuto e combatto la teoria di marx come errata è che essa rappresenta mio modo di vedere l'unico genere di teorie non ammesso quella delle teorie false quindi credo che nel corso della serata capiremo di più sia la teoria marxiana del valore in qualche modo sia la distruzione fatta in maniera meritoria da questo saggio col tono volume lungo saggio di bomba quindi ringrazio i nostri relatori cedo subito la parola al professor bene grazie grazie per questa introduzione intanto ci tengo una volta ringraziare lorenzo maggio e gli amici lodi liberale e per questo incontro certamente per il loro e per soprattutto per l'invito ovviamente e ci tengo a ringraziare però anche l'amico e collega raimondo e mondo cubetto perché appunto mi ha dato un po l'occasione di con il scritto ma con la sua introduzione di riconsiderare insomma poi di anche di rimeditare questo saggio saggio scritto appunto da bomba ver che nel 1896 ecco per ricordarlo il terzo libro del capitale esce postumo 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 a cura di engels nel 1894 quindi appena uscito naturalmente postumo ovviamente e e poco dopo c'è l'intervento di di bombare quindi è un intervento direttamente collegato proprio a questo libro al terzo libro che avrebbe dovuto chiudere completare insomma il sistema ma che in realtà così certamente non riesce a fare e certamente in questo saggio di bombare che dico è un classico come è stato già anticipato un classico della letteratura economica quantomeno sicuramente tra tra fino ottocento inizio novecento avviene anche non viene molto per la verità citato anche se comunque è noto è citato dagli storici un po se storia pensiero economico ecco come capita in me ai classici però è molto poco letto cioè viene citato ma letto letto poco e fratto devo ammettere ecco una parentesi breve personale che anch'io francamente l'avevo un po archiviato e dopo i miei studi insomma di dottorato perché in sostanza così come nei miei corsi o un po archiviato ho messo un po in soffitta anche il problema della trasformazione dei valori e prezzi tutta una serie di tematiche marxiane e per dare spazio qui veramente anche per motivi vincoli di tempo e dare spazio ad altre tematiche novecentesche ecco quindi questo mi ha riportato quindi ai miei studi di diversi anni fa e quindi ringrazio certamente il mondo per per questa opportunità per avermi indotto a questo naturalmente in questo è stato molto stimolante molto stimolante lo dico veramente questa introduzione ecco vorrei dire due parole sicuramente sull'introduzione di raimondo a questa riedizione appunto del del saggio di bombare è un'introduzione che è quasi una monografia bisogna dire perché sono sono praticamente sono circa 100 pagine e soprattutto nomografia che è una vera miniera devo dire di spunti per gli studiosi non so se per il lettore così lettore magari meno addentro alle questioni storia del pensiero o storia che sono politico economico faccio lo stesso effetto ma io ho trovato veramente molto stimolante grazie anche a questo ricco apparato di note di riferimenti bibliografici c'è veramente è una miniera a cui si ritrovano testi che anche dimenticati che invece raimondo puntualmente cita tra i temi che mi hanno molto colpito ecco due parole vorrei dire proprio su questa introduzione perché trovata mente di grande grande interesse ecco tra i temi limiterò a citarne tre ecco poi passerò senz'altro a bombare beh intanto il in in questa produzione si trova io non avevo mai insomma a mio avviso non ci sono altri studi così approfonditi e come diciamo i temi esposti a bombare vengano recepiti dai dalla scuola austriaca stessa di cui bombare che ovviamente esponente un esponente con con qualche con qualche problema sappiamo perché la tre del capitale di bombare che venne molto criticata insomma anche da 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 menger però un autore sicuramente che appartiene certamente a pieno titolo a scuola austriaca anzi è stato docente e importante in questa scuola e però ecco non avevo nozione di altri studi che riportassero insomma come menger stesso viser mise se hai e che avevano poi ripreso questi questi temi bomboverchiani in realtà poi si vede che la critica marxiana da parte c'è la parte di bombare di max non trova poi così tanto spazio ecco in questi autori però sicuramente è una serie di grande interesse per lo meno chiaramente per gli studiosi interessati e poi ecco il ho trovato anche riferimenti molto interessanti per esempio a come croce si misura con metto croce sono come si misura con come baver che naturalmente con 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 marx ovviamente e altri autori per esempio trovato viventi a bucarin che c'è esattamente nicolai bucarin esponente marxista poi sappiamo parte poi della del gruppo sovietico bolshevico e che però appunto interviene anche su questo sacer poi noi rat ecco autori noti ma non così noti con riferimento a bombare e poi ho trovato molto stimolante ecco magari poi alla fine vorrei dire cercare di riflettere un attimo su questo è un collegamento che raimondo fa un possibile nesso tra come vedremo in realtà questo nesso è molto molto labile ma voluta raimondo lo chiarisce molto bene tra da un lato il saggio di bombare che è dall'altro il principale in fondo dibattito sulla fattibilità sulle sulla possibilità di un'economia pianificata che è il famoso dibattito appunto sul calcolo economico dell'economia socialista che ha avuto come protagonisti certamente mises hayek e nell'area socialista oscar lang ecco è la cosa molto interessante ora poi tempo lo riprendo un attimo e che in realtà in questo che il dibattito in cui si parla della di di come eventualmente un'economia pianificata possa funzionare ovviamente sappiamo la posizione di mises molto molto critica insomma se non ci sono mercati funzionanti e prezzi effettivi socialista cioè si può fare anche un'economia pianificata ma non sarà sarà sicuramente inefficiente non potrà essere assolutamente efficiente e però non ci sono quasi riferimenti a bombare ecco questo è un tema su cui eventualmente possiamo poi tornare in effetti marx non non viene più nemmeno citato oscar lang stesso per esempio utilizza il modello varrasiano anche esponente dell'area socialista poi sarà uno dei protagonisti anche della pianificazione quindi uno che ci credeva la pianificazione di marx non parla parla cita a parte ringrazia tra l'altro in questo saggio mises per la sua per il suo intervento e cita però pareto e varra si sono un città sito modello varrasiano utilizzo modello varrasiano con tutte le critiche le contro osservazioni ovviamente di ai e che su cui se c'è tempo torniamo un attimo ma ecco questo sono punti che trovo molto stimolanti nell'introduzione ecco di dire mondo che si raccomandano la scuola lettura sicuramente ecco torniamo quindi a bombare che ecco qui ecco qui tra l'altro sempre l'introduzione e raimondo riprende una un'espressione certamente retorica ma efficace che aveva utilizzato croce croce l'aveva utilizzata in senso forse cioè parlava di questo dardo accuminato che la tre del plus valore aveva piantato nel fianco del capitalismo però in modo la capovolge in modo molto efficace trovo questa freccia accuminata in realtà è il saggio di bombare che che pianta una freccia accuminata nel fianco del marxismo una freccia combinata che certamente ha la sua efficacia ma che come sappiamo ecco questo fa anche questo un elemento di riflessione e nonostante la forza insomma delle argomentazioni no di bombare che però insomma questo sistema poi continua per per forza saprei certamente viene utilizzato utilizzato qui si può discutere in modo più o meno erosimile comunque da una serie di realizzazioni chiamiamole così del cosiddetto socialismo reale del del novecento e ancora oggi insomma c'è chi propone un ritorno a marx come antidoto contro i problemi certamente sono enormi della società contemporanea che forse non è lì che troviamo la cura e qui certamente serve una riflessione da fare sul ruolo dei miti no i miti le teorie ok però più che le teorie qui è un mito sotto forma di teoria apparentemente complessa e che ha una sua forza ecco mecloschi direbbe una forza retorica non fondo questo apparato anche fumoso di questa costruzione dialettica di marx ha una forza retorica è un mito che poi mobilità mobilità lo più riesce a mobilitare con se vedo che il tempo sta scorrendo e voglio stare un po nei tempi ecco e quindi questa edizione italica questa nuova edizione che fra l'altro ha una nuova traduzione io non sono in grado di giudicare ed entrare dentro i dettagli trovo che sia comunque molto bene molto leggibile e quindi immagino un'ottima nuova traduzione ecco diciamo che ecco alcune osservazioni generali sulla su questo saggio di bombare credo tra l'altro che la mica collega che poi mi seguirà vorrà entrare più negli aspetti tecnici ecco io mantengo un po su alcuni aspetti generali con un paio di osservazioni più più di dettaglio beh innanzitutto certamente ecco qui bombare che non può essere altrimenti analizza analizza le contraddizioni comunque analizza il sistema le contraddizioni del sistema di marx certamente nell'ottica di un economista austriaco come ovviamente egli è ma ecco una cosa che mi ha colpito e che però è quella di bombare che una critica condotta per per linee interne sostanza bombare entra nel sistema di marx utilizza volutamente categorie marziane per rendere la sua analisi ancora più efficace quindi è un'analisi interna per in mente in altri temi insomma bombare che ha letto ha letto e meditato insomma eh i volumi eh del capitale ha preso il serio ha preso il serio eh ma non solo ma una cosa che colpisce e che ha letto e meditato anche un'ampia letteratura che francamente non dove essere molto eh certamente non era assolutamente di orientamento austriaco assoluto l'opposto e non doveva neanche essere eh una letteratura di facile di facile eh digeribilità ecco per esempio eh cita eh e anche credo recensisce eh bombare conard schmidt eh recensisce eh samba eh di cui fra l'altro mh esprime anche valutazioni positive sul suo saggio interpretativo eh di marx cita anche per esempio l'Oria cita altri autori minori ehm ecco e tra l'altro un altro punto che mi piacerebbe eh sottolineare il punto generale sempre ma mi è molto colpito nel rileggere questo testo è che eh pur criticando certamente in modo eh anche qualche volta certamente deciso e anche con termini qualche volta aspri eh soprattutto eh critica eh critica di Marx l'utilizzo di di artifici retorici vari però è una critica va detto da studioso a studioso ecco una cosa che colpisce che eh bombaver che al contrario va detto di Marx che non era affatto non era affatto rispettoso spesso eh dei suoi avversari la critica di bombaver che è una critica eh sempre rispettosa no? Eh certo eh ho trovato tra l'altro c'è un un passo passo un breve riferimento in cui bombaver che eh dice io considero Marx un pensatore un pensatore di primordine addirittura scrive quindi in realtà ecco questa è un elemento eh che va insomma bombaver che è certamente su posizioni opposte eh riesce a a dimostrare molto bene le contraddizioni almeno eh credo sia difficile con contravenire a questo contraddizioni interne del sistema però eh sempre una critica da studio insomma che non scende insomma non entra mai sul personale assolutamente ma neanche utilizzando così categorie retoriche ehm e ecco l'altra cosa insomma che colpisce è che effettivamente eh noi siamo in un'epoca eh di iper specializzazione eh ognuno di noi legge quasi sempre solo i contributi della propria area o comunque eh del proprio eh del proprio settore del proprio field e qui invece c'è ecco eh questo siamo ancora fino ottocento ovviamente però c'è una capacità di leggere la letteratura più ampia e di misurarsi con categorie che ripeto sono assolutamente agli antipoti di quelle austriache ma che comunque eh bombaver conosce ecco ehm qui eh tra l'altro ehm capitolo capitoli tre e quattro sono sono di un'assoluta efficacia io trovo che sono eh veramente eh da manuale insomma come riesce a smontare e dimostrare la eh l'incoerenza eh del sistema no? E e e quindi ecco un punto allora quindi è certamente bombaver che non solo efficace ma anche lettore attento no? Lettore molto attento. Ecco un unico punto su cui eventualmente poi ci serve sentire anche anche Raimondo è è un po' questo ecco eh eh ecco nel capitolo quattro c'è un'osservazione sicuramente molto interessante eh di bombaver che e cioè bombaver che eh cosa scrive? Scrive ma insomma questa tesi portante no? Cosa c'è? Eh questa tesi portante in Max è appunto il lavoro come unica e sola base del valore no? Scrive bombaver. Cioè questo questa idea che l'unica causa, l'unica fonte eh del valore, del valore di scambio insomma sia sia il lavoro. Ecco questo certamente dice bombaver che non è un non nasce dal sistema analitico perché il sistema analitico non regge questa questa è una visione no? L'ho tradotto in questa è una visione. Una visione che dice bombaver trae eh comunque alimento anche se eh Max ovviamente lo fa perché è una sua personale convinzione ma trae alimento da due grandi pensatori dell'età classica sicuramente Adam Smith e eh e David Riccardo. E poi ecco su questo eh su questo credo che bombaver abbia perfettamente ragione. Eh quello eh anzi poi su Smith citerei a dire un paio di cose ma eh eh su su Riccardo ecco certamente sono ispiratori e questa idea che il 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 lavoro sia eh causa fonte e misura del valore lo troviamo eh sia in Smith sia sia in Riccardo. Quello che però eh trovo così un po' semplificatorio che stavolta eh un raro esempio forse l'unico di di interpretazione un po' eh non filologicamente corretta e che a un certo momento eh bombaver che eh dice insomma eh per poter abbracciare ecco cito un attimo eh senza evidente contraddizione la dorata tesi filosofica del lavoro come vera fonte del valore eh Smith e Riccardo dovettero rifugiarsi eh nel tempo delle fiabe o cioè nel tempo in cui non resistevano capitalisti cioè nel root stage quello che appunto gli studiosi di Smith chiamano il root stage o stato per lo stadio primitivo. Ora questa è una critica assolutamente fondata per Adam Smith ma non per Riccardo. Ecco Riccardo certamente con tutti i limiti insomma del del paradigma classico eh è coerente al suo intero cioè in sostanza eh una cosa che se si leggono i principi di Riccardo troviamo come Riccardo esponga con molta chiarezza eh quelli che erano diciamo le 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 condizioni ipotesi istrittive che andavano adottate per poter utilizzare il lavoro contenuto come misura del valore di scambio anche in una società avanzata. Adesso non entro nei dettagli perché è una questione però sicuramente nei principi troviamo esposti con molto rigore da questo punto di vista Riccardo è un economista rigoroso e anche con i difetti possiamo dire dell'economista moderno cioè un economista che lavora per modelli quindi un modello molto astratto quello che lui costruisce e cerca poi di 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 insomma con difficoltà eh si rende conto anche dei limiti di questo di questo modello però sicuramente fa uno sforzo interessante dal punto di vista analitico di applicare eh appunto il modello dell'eo stage allo stadio avanzato eh non entro nei dettagli insomma è chiaro chiaro che non funziona nelle cioè il modello come scrive lo stesso Riccardo ha un problema fondamentale che è il fattore tempo no cioè quando le durate processi produttivi non è uguale in tutti i settori eh ci sono dei problemi però questo non entro nei dettagli però sicuramente eh Riccardo non si limita a eh parlare di stato di privitivo anzi per cento aspetti questo è il primo con la mia convinzione personale Riccardo è assolutamente più rigoroso di Marx insomma eh c'è chi ha parlato di Marx come minor Riccardia Riccardiano minore ora io non so quanto sia fondato però sicuramente dal punto di vista del rigore analitico Riccardo che arriva poi a conclusioni che non si possono condividere certamente ma che però come rigore analitico Riccardo sia eh assolutamente eh un autore eh che si pone un po' ai vertici del suo tempo ehm ecco un altro punto non so se avevo ancora un paio di minuti eh ecco due cose ecco evidentemente anche come spunti se vogliamo per non so se è troppo tecnico ma per una riflessione eh intanto ecco un elemento che chiunque abbia eh ritorno appunto a questa collegamento smith eh smith marx ecco ecco effettivamente qui che con un ricollegamento colto molto bene da bombare che no c'è questa idea che il il lavoro sia la fonte eh causa insomma e misura ma soprattutto in smith direi più causa proprio del valore è qualcosa che in smith è assolutamente presente no ecco questo elemento eh se noi leggiamo smith è un po' puzzling no perché insomma smith noi siamo certamente ci insegna no ci insegna come sappiamo che le attività economiche guidate al self interest no eh in un contesto ovviamente concorrenziale portano al benessere no non portano al caos no l'insegnamento fondamentale di smith è che in una società in una economia di mercato concorrenziale eh l'esito dell'attività non coordinata in nessun modo degli individui non porta al caos ma porta anzi a eh a un benessere compatibile ovviamente con con il limite delle risorse no e il governo sappiamo i smith non si deve non deve interferire in questo processo non deve interferire nella locazione dei fattori produttivi però poi ecco poi troviamo lo smith che appunto eh quindi qui è smith che ispira no la eh tutta la trazione del ruolo dell'economia di mercato e così via ma troviamo anche eh lo smith che ha queste eh diciamo aspetti possiamo dirli quasi socialisti insomma c'è una singolarità no perché eh troviamo dei passi nel libro primo per esempio ricchezza e nazioni in cui smith eh dice nello stadio primitivo eh il prodotto il prodotto appartiene completamente al lavoratore che non ha né proprietario né padrone con cui dividono vedete questi spunti da cui poi Marx si attaccherà e e poi addirittura eh quando scrive smith occorre remunerare nelle economie progredite terra e capitale queste remunerazioni e questa è una cosa che ho trovato sempre eh molto discutibile smith no le remunerazioni eh della terra e capitale del quindi la rendita e profitto vengono presentate come deduzioni dal prodotto del lavoro e questo certamente apre eh insomma la strada poi eh a Marx insomma un'analisi naturalmente poi Marx procede per sue per sue linee e infatti eh questo punto c'è c'è un passo che volevo un pochettino eh sono due minuti eh richiamare di Menger no quando Menger per la verità è un passo qui eh mi appello poi a Raimondo che è un conoscitore eh molto preciso insomma di di Menger no compare nella seconda edizione dei principi però in cui Menger eh appunto critica questo fatto no il fatto che parecchi studiosi no scrive Menger hanno considerato il lavoro come causa determinante unico elemento costitutivo del valore dei beni qui eh certamente Menger ce l'ha con 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 Marx ovviamente ma temo anche con Smith almeno questo questo Smith e poi finì questa citazione termina eh quando Menger appunto dice sempre a causa di questa concezione i lavoratori non si considerano oggi rappresentanti di un importantissimo fattore di produzione cosa che ovviamente sono ma causa della produzione tutti i beni i soli creatori della ricchezza nazionale qui ovviamente eh Menger eh trova questo questo elemento eh molto molto deviante molto eh chiaramente errore e finito eh io terminerei terminerei qua ecco abbiamo fatto quel riferimento al dibattito sul calcolo economico eh quindi il dibattito tra 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 Mises Hayek e Langhe eh ecco lì non si parla praticamente come dicevo di Marx quando si parla di realizzabilità o meno di un'economia pianificata si utilizzano altre altri strumenti altri modelli appunto il modello modello varasiano questo fa pensare appunto che effettivamente questo da parte anche di Langhe ripeto che era eh mentre vabbè Mises ovviamente è ovvio eh ma Langhe era un economista di area socialista insomma e e quindi colpisce che anche lui non non menzioni proprio per nulla eh Marx in questo dibattito io mi fermo qui perché forse ho anche sforato un po' con i tempi. Nessun problema eh nessun problema anzi grazie eh professor Pavanelli credo che mi ha introdotto un tema che poi sono convinto che eh professor Cuberdu si concentrerà cioè appunto sulle eh legame in qualche modo della teoria eh del valore tra Smith e Marx perché appunto manca l'elemento fondamentale che ci ha insegnato la scuola storica cioè il soggettivismo e quindi questa cosa eh è quella che eh fa discendere eh anche da Smith purtroppo parte degli eroi che ci sono stati nel corso della teoria economica. Ehm quindi uno dei messaggi che passa dalla lettura del libro è che la teoria di Marx non solo è sbagliata scientificamente eh per tutta una serie di contraddizioni logiche ma è anche incoerente nel corso nell'abito del sistema marxiano perché ci sono contraddizioni interne eh che vengono o sottovalutate o trascurate o si fa appinta di niente e Bob Baver ci fa vedere che sostanzialmente questo eh non è un caso ma in qualche modo eh Marx ne è pienamente consapevole e eh gli serve nessun ragionamento. Anche qui un una citazione. Marx era ben consapevole di cosa volesse e dovesse ottenere e così rimaneggiò e rigirò con ammirevole raffinatezza docili concetti e prevesse. Fino a che il risultato previsto uscì effettivamente nella forma di una conclusione esteriormente a modo. Forse era talmente accecata dalle proprie convinzioni da non accorgersi nemmeno degli spropositi logici e metodologici che dovevano per forza di cose introdursi nel ragionamento. Forse è anche possibile che se ne sia accorto ma che vi abbia giustificato i propri occhi come meri strumenti formali necessari affinché una verità materialmente basata sulle sottuitime convinzioni potesse assumere anche la veste sistematica ad essa adeguata. Credo che sia una descrizione perfetta non tanto di uno studioso ma di un ideologo, di una sorta di agit prop antelitteram, passatemi questa semplificazione, che ha sacrificato la scienza in questo caso economica alla diffusione di un'idea sbagliata, incoerente e illogica. Il professor Penoso che ha una splendida tazza della Guinness dove tutti noi speriamo che non ci sia della camomilla o qualcosa ma una Guinness e quindi ringraziamo di essere finalmente con noi e dovrebbe essere attivata la modalità di condivisione perché ha delle slide quindi grazie Valerio, a te la parola. Grazie Lorenzo, grazie all'Odi Liberale per avermi invitato, io apprezzo molto le vostre iniziative e la frequenza con cui le fate, la qualità e veramente vi auguro il miglior successo che meritate. Allora io oggi partirei da un tentativo di analisi del contributo di Bombawerk, cercando di capire poi quali sono state anche le implicazioni del suo intervento, del suo contributo. Allora io adesso condivido alcune slide che ho preparato. quindi ecco qui, spero che si veda. Nel momento no, però vediamo, ecco adesso stanno arrivando. Bene, bene. Ok, allora io ho preparato una piccola timeline per avere, diciamo, una datazione degli autori e per capire poi come si arriva al contributo di Bombawerk. Quindi come il collega, amico Giovanni, il riferimento fondamentale è Adam Smith, quindi colui che ha sistematizzato per primo l'economia politica, che ha dato questo impulso all'idea che l'economia politica possa essere studiata come una disciplina a sé stante, per quanto inserita in uno schema filosofico, che a lui era ben chiaro, e il suo, diciamo, per quanto riguarda la teoria del valore lavoro che compare già nella ricchezza delle nazioni, abbiamo poi David Riccardo, che è colui che la sviluppa. Nel mezzo c'è il contributo di Thomas Malthus, perché Thomas Malthus è importante perché formalizza l'idea di come funzioni il mercato del lavoro e quindi l'idea della sussistenza, dei salari di sussistenza. Gli snodi cruciali sono chiaramente la pubblicazione nel 1867 del primo volume del Capitale, che come ricordava Giovanni, fu preso molto sul serio da von Bawerk. Io aggiungerei anche in un momento in cui Marx non godeva di questa reputazione scientifica nel mondo degli economisti particolarmente vasta. Lui invece l'ha presa, diciamo, prese Karl Marx molto sul serio e quindi, diciamo, con, prese sul serio le affermazioni che si trovano nel primo volume, nel terzo volume Karl Marx ricapitola alcuni aspetti del problema della trasformazione e fornisce una sua soluzione, della quale poi von Bawerk mostra i limiti. Nell'83, qua c'è una piccola inversione temporale, quindi mi scuso di questo errore, un economista italiano, Achille Loria, che per quanto simpatizzante di Marx e con un'impostazione decisamente che si rifaceva ai classici dell'economia, scrive nel Necrologio di Marx, pubblicato sulla nuova antologia, che la teoria del valore e lavoro di Marx è completamente, come diremmo oggi, forse in inglese, un hodgepodge, quindi una specie, una confusione teoria, una confusione logica che non merita molto, diciamo, molto studio, molto interesse, perché è sostanzialmente insostenibile. E quello che, diciamo, questa affermazione chiaramente gli attira gli strali di tantissimi economisti e anche di qualche pensatore molto noto, in questo sviluppo poi di von Bawerk, la critica a Marx è contenuta sostanzialmente in due contributi, perché già nel contributo dell'84, nella storia della critica delle teorie sull'interesse del capitale, von Bawerk attacca un altro aspetto della teoria marxiana e quindi anticipando quella che sarà poi la sua teoria del capitale, incomincia a notare delle incongruenze sulla struttura temporale della produzione e quindi sull'effetto del tasso di interesse che nel sistema marxiano comporta delle difficoltà logiche. Però oggi noi ci occupiamo di von Bawerk nella conclusione del sistema marxiano. In questo saggio, che poi è stato sempre pubblicato una volta, ma qui forse è meglio non diminuarsi perché la prefazione di Raimondo è più che esaustiva, però a me interessa intanto far rimarcare il fatto che sia molto, sia stata molto studiata paradossalmente più negli ambienti socialisti marxisti che negli ambienti diciamo neoclassici, perché era un testo che veniva pubblicato generalmente con la replica di Hilferding, se non sbaglio, e quindi è stato oggetto in studio dei marxisti. Poi un punto di svolta è l'affermazione nella storia del pensiero economico di Karl Menger che teorizza il principio dell'utilità marginale sotto forme diverse e questo principio compare anche nella scuola francese di economia e trova una sua compiutezza nel tentativo di Leon Barras di costruire, cioè di raccontare il sistema economico, la complessità del sistema economico, l'emergere del sistema dei prezzi tramite un sistema di equazioni lineari che determinano i prezzi dei vari beni. Questo tentativo chiaramente poi nel Novecento trova la sua consacrazione finale con l'utilizzo di tecniche matematiche sofisticate che permettono di dimostrare rigorosamente che questo sistema di prezzi effettivamente può esistere sotto determinate condizioni. Quindi lo sforzo poi, diciamo, degli economisti moderni è quello di definire le caratteristiche di questo insieme di prezzi, quanto sia, se esista, se sia stabile e così via. Sotterraneamente, ma neanche tanto forse, vorrei dire anzi più parallelamente, il pensiero marxiano procede e in qualche modo trova, c'è questo filone, diciamo, alternativo di analisi economica, trova nel lavoro di Sraffa del 60 il suo cubine nel famoso saggio che si chiama Produzione di merci, a mezzo di merci, sul quale si è detto tutto, ma tutto e contro di tutto, molto ostico, diciamo, criptico sostanzialmente in tanti punti, ma che si ricollega in fondo a questo problema di Bob Averk e tenta di fornire una soluzione definitiva al problema di Marx, seppure, diciamo, utilizzando, ritornando alle radici poi ricardiane del problema. Allora, cerco di andare avanti. Allora, io ho cercato di mettermi un pochino dal punto di vista di uno studente attuale, cioè, come ho, diciamo, degli studenti d'economia, ai quali devo fornire un linguaggio, e mi sono accorto che anche io ho una certa difficoltà nel rientrare nel lessico dell'economia classica, perché molte variabili, molte definizioni risultano un po' ostiche a chi, diciamo, come me, fa di lavoro l'economista e quindi lavora con questo tipo di... diciamo, con un modo di tendere l'economia completamente differente. Quindi ho pensato che fosse utile raccogliere alcune definizioni qui, diciamo, che sono proprie di Marx e che servono poi a inquadrare il problema. Quindi il primo concetto è il valore di scambio di una merce, quindi una distinzione col valore d'uso, ma il valore di scambio è quello che per Marx è il lavoro che viene incorporato nella merce. Quindi non un generico modo, non un generico impiego del lavoro, ma quello che è socialmente necessario. In questo gergo un po' fumoso, sostanzialmente Marx dice socialmente necessario, cioè quello che è più comune dell'economia, quello che potremmo dire oggi statisticamente è la modalità più frequente, o la modalità media o quella più frequente. Quindi nel valore di una merce, noi abbiamo due componenti. Una è quella del lavoro vivo che viene impiegato direttamente, cioè l'operaio che per produrre quel palio di scarpe ha impiegato due ore nel suo tempo in un processo industriale che fa leva del capitale che non è altro che il lavoro che è stato accumulato. Cioè Marx lo chiamano come se fosse il lavoro è morto, il lavoro che è stato, come dire, accumulato nel tempo in questi beni di produzione. Perché l'assunzione di base è che il valore deriva unicamente dal lavoro umano. C'è quest'altra definizione che è importante nel problema della trasformazione, che è la composizione organica del capitale. Quindi se C e B sono il capitale costante e quindi i beni che costituiscono il fondo del lavoro già svolto e quindi il capitale e quello variabile è quello che acquista il lavoro vivo, se noi andiamo a dividere C su C più V abbiamo una quantità che noi chiama composizione organica del capitale e che ricorda molto quello che noi oggi chiamiamo il rapporto capitale-lavoro. Quindi diciamo è il coefficiente di intensità capitalistica, diciamo l'intensità di capitale, meglio, di un certo processo produttivo. Come tutti gli economisti classici, Marx ha questa idea del surplus. La sua teoria cerca di spiegare il surplus e fa derivare come gli altri economisti classici il surplus dal lavoro vivo. Il lavoro vivo cioè quella componente addizionale che viene aggiunta nel processo di produzione. Marx, e in questo non si distacca poi particolarmente dagli economisti classici, sostiene che il mercato del lavoro sia tale che i lavoratori vengano remunerati al loro salario di sussistenza. Non c'è il concetto che vengono pagati secondo il contributo che forniscono in termini di valore alla produzione, ma i salari sono bloccati da una legge che diciamo ferrea che li schiaccia verso il livello di sussistenza che viene storicamente determinato. Quindi non esiste la possibilità nel mercato del lavoro marziano che i salari possano crescere perché esiste poi sostanzialmente un esercito di altri lavoratori che sono disposti a lavorare quel minimo che io ho chiamato qua V segnato che è lavorare per la sussistenza cioè per ottenere il minimo che permette la riproduzione della forza lavoro. Quindi possiamo a questo punto scrivere il tasso di sfruttamento un'altra grandezza importante del problema della trasformazione come il rapporto tra il plus valore quindi il plus valore che insomma abbiamo sostanzialmente anticipato che è proprio la differenza tra il valore del lavoro conferito in un dato processo produttivo al netto del salario di sussistenza che viene versato. Quindi il tasso di sfruttamento è proprio il rapporto tra questo ritorno che ottiene e che diventa il reddito poi del capitalista e il valore del valore del lavoro che viene impiegato. il saggio di profitto quindi è il rapporto quindi tra il surplus e non non soltanto vi quindi il valore del lavoro che viene utilizzato in quel momento in quel processo ma il valore totale del diciamo delle risorse che sono impiegate quindi il capitale il lavoro morto in qualche modo e il lavoro in vivo tutta allora tutta questa costruzione marxiana si basa sull'idea quindi che i valori derivino unicamente dal dai diciamo dagli apporti di quel momento del 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 lavoro o i valori diciamo o gli apporti passati di lavoro il problema nasce quando si passa dalla diciamo dalla formulazione di questi valori ai prezzi di mercato perché sino adesso abbiamo parlato di una costruzione astratta che si trova vuol dire al di qua del mercato per tradurre questa diciamo questo discorso in un in un qualche cosa che sia anche empiricamente rilevante è necessario trovare una connessione con i prezzi di scambio sul mercato e qui ci sono altre ipotesi che vengono fatte da marx e che anche queste sono comuni agli economisti classici sull'idea che tra i capitalisti esista una competizione che spinge il capitale verso gli usi più profittevoli gli usi che sono più remunerativi in questo modo se un settore ha un eccesso di profitto gli altri gli altri capitalisti proveranno a entrare in quel settore facendo e quindi in questo modo abbassandolo e alzandolo nei settori che hanno meno capitale quindi la concorrenza tra capitalisti è un elemento che che guida poi la diciamo l'allocazione del capitale tra i vari settori allora facendo un po' di algebra che vi risparmio chiaramente si arriva a questa condizione dove K abbiamo detto che riprendo da qui è la composizione organica del capitale quindi 1-K è il tasso di sfruttamento e R è il tasso di profitto allora questa uguaglianza può chiaramente è funzione della composizione organica del capitale quindi di come del rapporto che c'è in ogni settore dell'economia tra capitale cioè tra lavoro vivo e capitale totale capitale più lavoro vivo chiaramente Marx si rende subito conto questo già nel primo volume del capitale che questo problema mette in discussione il fatto che i prezzi cioè che i tassi di profitto possono essere uguali ai tassi di sfruttamento la sua diciamo il suo primo approccio era quello di dire sono uguali però si rende subito conto che esiste nel diciamo nelle industrie una varietà di rapporti di insomma di comprensioni organiche cioè esistono settori che hanno una più alta intensità di capitale altri settori che hanno una più alta intensità di lavoro e quindi non può valere in generale questa equazione e quindi Marx si rende conto che questa che questa relazione non può valere riconosce il problema nel primo volume e rimanda ai successivi volumi la risoluzione di questa di questa difficoltà analitica quindi ritorna nel terzo volume del capitale che viene pubblicato postumo e curato da Engels con l'idea che se per quanto non valga diciamo non valga settore per settore il mercato è tale da rendere uguale la somma dei profitti con la somma del plusvalore generato dal mercato quindi non vale più per i singoli settori ma vale in aggregato questa è la soluzione marxiana proposta nel terzo volume del capitale e i prezzi di produzione vengono costruiti a partire dai valori aggiungendo a questi capitali anticipati un margine di profitto un margine di profitto generale che vale per tutta l'economia questa che idea vuole sottende questa formulazione l'idea che il mercato non faccia altro che redistribuire in qualche modo il surplus tra diciamo tra i vari settori però il surplus aggregato non viene toccato quindi il mercato non diciamo in questa come dire in questa versione marxiana del terzo volume del capitale non fatto che redistribuire il capitale diciamo il valore scusate il valore tra i vari settori allora qui nasce una una difficoltà poi radicale che poi di cui già marx si si rende conto diciamo che pure marx nota il fatto è che quando se una merce viene offerta a un prezzo diverso dal valore perché adesso lui sta mettendo questa possibilità il capitale costante e quello variabile devono comparire con il loro prezzo ma a questo punto calcolare il saggio di profitto diventa impossibile perché nei prezzi del capitale che è capitale morto cioè il capitale inglobato nel nel processo produttivo nella determinazione di quel prezzo è necessario conosce per determinare il valore di quel bel capitale è già necessario conoscere il saggio di profitto quindi il ragionamento diventa un diciamo diventa circolare in questo caso e a questo punto diventa problematica l'idea che il il profitto sia una deduzione a valle dal dal valore del dai valori impiegati Marx dà l'idea anche nel terzo volume di non essere completamente convinto di questa soluzione quindi lei a un certo punto liquida la questione come sostanzialmente rilevante quasi marginale però riafferma diciamo il principio che il prezzo di costo delle merci è sempre inferiore al loro valore bon bawerk va a rivedere le bucce di Marx con la sua capacità analitica incomincia a fare i conti in maniera molto molto precisa e quindi guardando all'algebra del problema lui si rende conto che utilizzando questa versione del questa soluzione del problema della trasformazione dei prezzi cioè dei valori in prezzi in ogni modo cioè non è mai possibile trovare che il profitto totale sia che è uguale il plus valore complessivo quindi soltanto casualmente questa cosa può avvenire ma normalmente non può avvenire quindi il saggio di profitto si trasforma diciamo muta attraverso il sistema della circolazione delle merci quindi il mercato non è un elemento semplicemente di redistribuzione del del plus valore all'interno del sistema ma sostanzialmente crea diciamo dà luogo assaggio di profitto o almeno lo diciamo lo modifica e quindi a questo punto se ne trae la conclusione che il sistema il sistema dei prezzi dell'economia di mercato quindi quello che si osserva empiricamente non è riconnesso cioè non ha una relazione uno a uno con il sistema dei valori e quindi non riflette in realtà lo sfruttamento di cui parlava Marx questo questo tipo di difficoltà io non so se sto andando un po' lungo quindi chiedo a Lorenzo non ti preoccupare vai vai ok allora su questo vado un po' veloce gli economisti marxisti hanno tentato di dare poi una soluzione a questo problema un tentativo diciamo abbastanza rilevante quello che ha fatto Seton Francis Seton in cui il problema viene generalizzato in cui vengono scritte le equazioni di n settori produttivi che guadagnano guadagnano in cui vengono insomma di riguardare il tuo stesso saggio di profitto R calcolato sulle anticipazioni di lavoro quindi questa è la forma diciamo più generale del problema quindi si ottengono come incognite n prezzi più il saggio di profitto allora per risolvere siccome abbiamo n condizioni e n più 1 variabili da determinare perché abbiamo n prezzi più il saggio di profitto chiaramente questo è un sistema sovradeterminato quindi per risolverlo è necessario prendere una di queste merci e utilizzarla come numerario quindi che cosa vuol dire che a un certo punto viene a cadere per quanto diciamo lo schema teorico possa essere salvato però come nota Napoleoni il concetto stesso di valore e lavoro diventa irrilevante perché utilizzando il lavoro possiamo risolvere il sistema ma possiamo utilizzare una qualsiasi altra merce che c'è nel sistema per ottenere la stessa soluzione quindi non si esce diciamo da questa trappola teorica quindi io mi fermerei qui poi magari possiamo in seguito tornare su qualche aspetto più specifico se lo riterrete opportuno quindi io interrompo la condivisione grazie al professor Filoso come ci segnala un nostro socio peraltro anche su facebook interessantissima e utilissima lezione di riassunto e di ripasso mettiamola così per chi in qualche modo questi temi li ha affrontati all'università o li ha voluti come dire affrontare dal punto di vista altro ecco Raimondo credo che sia il caso di come dire tuo magari anche spiegarci banalmente perché hai voluto magari parto da qui per una breve domanda e poi assolutamente libero l'intervento rifare la traduzione visto che esisteva già qualche anno fa questa edizione di Etas e invece ovviamente ha un netto un apparato introduttivo molto importante molto chiarificatore solo perché hai deciso che era ora due anni fa peraltro perché nel 2020 riproporre questo testo bombare grazie ben tornato bene grazie grazie a tutti grazie anche per gli elogi o i complimenti al mio lavoro in effetti è stato un lavoro un po' pesante e devo dire che anche se la qualità non è la stessa insomma la densità e la pesantezza tra il mio saggio e quello di Ben Bauer che è più o meno paragonabile naturalmente l'ingegno è diverso ma ormai non ci si può far nulla non ci posso far nulla perché perché l'abbiamo rifatto beh l'abbiamo rifatto anzitutto perché era indisponibile non si trovava più secondo perché veniva presentato in un modo a mio parere un po' fuorviante questo 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 saggio quasi lasciando intendere che poi i successivi sviluppi l'avessero confinato così nel dimenticatoio come una cosa passata passata una cosa a cui si era risposto si era andato avanti anche dal punto di vista della teoria della teoria marziana o marxista naturalmente l'istituto Bruno Leoni è stato molto generoso a consentire di far premettere questo saggio questo classico perché di classico si tratta da una lunghissima da una così lunga prefazione prefazione e vengo ai motivi ora io naturalmente non entrerò nelle nell'esposizione di Valerio perché insomma non ne sono capace e poi tutte quelle formule mi spaventano non ci ho mai capito nulla mi confondono le idee però voglio dire una cosa c'è un limite nella mia prefazione di cui mi sono reso conto un po' durante il lavoro ma soprattutto dopo è quello anche di non aver preso in considerazione quella che era l'approccio di Napoleoni e vabbè questo è un limite è un limite che denuncio ma soprattutto perché rifare questo saggio perché sostanzialmente eravamo lì pochi anni dopo il centenario bicentenario della nascita di Marx erano usciti tanti libri tante inesatezze tante cose e lì la presenza della critica di Ben Baver che praticamente era molto irrilevante come ho cercato di mettere in luce quasi che si trattasse come ho detto prima di questioni alle quali si era già risposto esorientemente e sulle quali non valeva tornare anche perché come mi disse un collega di Pavanelli diciamo ma perché occuparsi del marxismo il marxismo è morto certo il marxismo è morto però ne sopravvive qualcosa e questo qualcosa che sopravvive da una parte il tentativo che si manifesta in tutti questi libri che sono usciti in occasione di quel bicentenario di salvare una parte scientifica della teoria di Marx da una parte diciamo così politica ideologica filosofica la seconda è morta la prima rimane ancora viva ora questo era era proprio quello che diceva che diceva che negava Ben Baver il quale sostanzialmente è un bel esempio di qualcosa di cui come da un'analisi precisa puntuale rigorosissima di testi si possano attrarre delle conclusioni che sostanzialmente la storia mostrerà sbagliate Ben Baver dice mi meraviglio che una teoria così strampalata come quella del valore di Marx possa avere successo a meno che non incorra in una radicale rivisitazione e riformulazione ora naturalmente aveva sbagliato sostanzialmente la previsione di Ben Baver si dimostrerà sbagliata qualche decennio dopo ma neanche tanti due e sostanzialmente qualcosa che si ispirava a Marx va al potere e realizza l'Unione Sovietica l'espansione universale cosa abbia a che fare questo con Marx beh insomma secondo me nulla Lenin come sappiamo diceva beh insomma adesso dobbiamo fare il socialismo ma tutto quello che ci hanno detto i nostri padri non ci serve e bisogna farlo da capo e questa è una cosa un'affermazione sintomatica perché ovviamente c'era qualcosa che lo stesso Lenin che non era uno stupido riconosceva e questo è un motivo cosa rimane di Marx e cosa rimane rimane qualcosa che è entrato nel mito nel linguaggio comune che se stai male è per chi vieni sfruttato non è colpa tua ma è colpa di che esistono i cattivi che ti sfruttano e quindi il principio è il principio sostanzialmente dell'alienazione e dello sfruttamento che noi pensiamo sia una categoria ormai superata come il marxismo mentre invece la troviamo presentissima anche nelle parole dell'attuale pontefice che da questo punto di vista è marxista beh insomma detto tutto questo sull'alienazione sul ruolo del mito e tante altre cose sulle speranze di Ben Baver e altre cose si potrebbero aggiungere detto tutto questo bisogna anche dire che gli austriaci sono passati per i grandi oppositori del marxismo in realtà non se ne occupano affatto non se ne occupano affatto per una serie di cose perché prima di tutto perché Ben Baver non si occupa del marxismo si occupa della teoria del valore di Marx seconda cosa perché gli austriaci successivi compreso lo stesso allievo di Ben Baver che fu Mises si trovano si cimentano con problemi dell'edificazione del socialismo che sono completamente diversi perché l'edificazione del socialismo come ha detto bene e giustamente Giovanni non viene fatta sulla base della teoria marxiana del valore ma viene fatta sulla base della teoria dell'equilibrio economico generale in derivazione valrasiana quanto poi l'abbiano capita eccetera 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 ma lasciamolo stare i problemi sono diversi i problemi sono diversi e da questo punto di vista Ben Baver che si lo conoscono tutti ma non non ci dice nulla per affrontare il problema della realizzabilità del socialismo solo vagamente possiamo dire che il socialismo non si può realizzare per i motivi che aveva detto Ben Baver che poi per certi versi sono anche i motivi che aveva messo messo in luce Menger quando diceva si va bene ma in una forma economica diversa e questo Menger lo dice già nell'opera dell'83 vale a dire le untersucunghe ma non ci sarà più un interesse individuale non ci sarà più una teoria del valore ditemi se questo se questo è possibile ora ovviamente Ben Baver Menger lo diceva contraponendosi a Schmoller però il problema teorico rimane è immaginabile una teoria economica che possa prescindere completamente dal modo in cui gli individui scambiando realizzano i propri bisogni quindi c'è al fondo c'è questa convinzione di questa grande rivoluzione che è data dalla teoria dei valori soggetti che è naturalmente via diciamolo pure non è che fosse completamente originale non è che se la inventa Menger era già presente era già presente in in Galiani Menger la riprende ci dà uno sbocco sensazionale ma questo questo è un altro questo è un altro è un altro è completamente un altro discorso e però quello che è importante dire è che sulla base anche di questo attacco che viene che 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 viene rivolto alle teorie di Ben Baber e soprattutto da parte di Bukharin ora devo dire la verità Bukharin è quello che ci capisce di più no? Naturalmente perché? Perché aveva frequentato il seminario di Ben Baber e quindi certe cose certi svarioni che dicono gli altri non è non le dice trasforma tutto il discorso e trasforma la teoria austriaca nella teoria della classe agiata ecco abbiamo già identificato un nemico non solo il borghese ma la classe agiata che 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 sfrutta e che vive di parassitismo sostanzialmente questo trasforma o è un tentativo di trasformare gli austriaci negli oppositori ufficiali del marxismo come se gli austriaci fossero completamente insensibili alla questione sociale la questione della dignità di vita dei lavoratori e invece questo non è vero non è vero perché questa questione sociale questa questione della dignità dei lavoratori era già presente in Menger in una grande consapevolezza in Menger il quale però sempre nella polemica con Schmoller dubitava del fatto che queste diseguaglianze sociali potessero essere risolte tramite un intervento dello Stato e perché? Perché pensava sostanzialmente che il problema fondamentale dell'economia è la riproduzione di quello che viene consumato per assicurare un certo standard di valori quindi una teoria del capitale quindi a fondo al fondo di tutto questo c'è una teoria del capitale che è ben viva dagli austriaci e che quando si ripropone il marxismo non si risolve non viene risolta questa questione come riprodurre quello che viene consumato ora questo possiamo dire allora gli austriaci sono degli ecologisti degli ambientalisti di qualche per certi versi sì perché sostanzialmente quello che si dice è la parsimonia il problema con l'inventiva con il tasso di sostituzione dei beni per soddisfare i bisogni eccetera 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 però sicuramente non sono degli affamatori del popolo come gli si vuole far passare non sono nessuno di questi è se un sostenitore dell'SFR o del manchesterismo Menger è chiaro tutti gli altri da questo punto di vista sono chiari per un motivo molto semplice perché sanno benissimo se la base della teoria o filosofia delle scienze sociali è la teoria delle conseguenze intenzionali non pensano assolutamente che un mercato come quello dell'SFR possa non avere delle conseguenze delle conseguenze intenzionali e quindi questo libro attraverso questo libro di Ben Bav che io l'ho sfruttato per certi versi per cercare di ribaltare certi luoghi comuni riguardo alla scuola austria che è la sensibilità dei suoi esponenti per i problemi sociali e qui passiamo ad altre cose ecco quindi allora della recezione delle idee di Ben Baber che negli altri austriaci abbiamo già detto anche Mises che era l'allievo di Ben Baber che non ne parla e poi ci sono altre persone di cui parlo ho scelto delle persone uno è Noirat nella teoria di Noirat sul socialismo e già qui siamo in un altro momento siamo intorno agli anni venti ma Noirat come ho detto era stato anche lui un frequentatore del seminario di Ben Baber che è un po' turbolento come al solito ma questo è un'altra cosa però neanche in Noirat abbiamo una teoria del socialismo fondato sulla teoria marziana del valore lavoro abbiamo Merlino l'anarchico Merlino il quale legge gli austriaci e si accorge che pensare ed edificare il socialismo sulle teorie di Marx è un tentativo infruttuoso spera forse di edificarlo sulla base della teoria della teoria austriaca soprattutto quella della valore naturale di Wieser ma questa è un'altra questione che ci porterebbe lontano e poi c'è il penoso caso di Croce il quale il quale bleffa anche di Dardo Acuminato parla del Dardo Acuminato ma senza dire non ho qui sottomano un saggio di Ben Baver che ha apparso nelle commemorazioni di Knis beh insomma non dice che si tratta della conclusione stea marziano ma sulla base di questo non detto dice che il Dardo Acuminato sulla teoria del plus valore non sarà tanto facile toglierlo insomma un po' imbroglia un po' dicere cose così e vabbè ma questa ma questa è un'altra cosa allora altro tema Ben Baver che è l'economia pianificata beh non c'entra nulla ovviamente come ho detto prima l'economia pianificata le teorie dell'economia pianificata a partire da Noirat fino fino alla grande la grande epopea di studi degli anni trenta e degli anni e degli anni quaranta si svolgono tutte e poi la ripresa del modello di Arrog e Debré si svolgono tutte su un'altra su un'altra base sono cose completamente diverse che se volette erano state già la cui critica era stata già avanzata sia pure indirettamente dai che col saggio economia e conoscenza i dati non esistono i dati sono costruzioni teoriche e qui ci ricolleghiamo ci ricollegano naturalmente a quello che aveva che aveva detto Menger e per di più questi dati vengono posti come se le preferenze individuali e quindi le aspettative individuali rimanessero fisse nel tempo ora chiaramente qui si dovrebbe aprire una parentesi sulla questione del tempo che è una questione fondamentale in Ben-Bawerk è una questione che Ben-Bawerk pone all'attenzione perché sostanzialmente tutti questi modelli che sono stati avanzati precedentemente fanno a meno di una concezione del tempo non di una concezione del tempo se noi inseriamo il fattore tempo tutto viene buttato all'aria tutto deve essere deve essere rivisto e questa è una cosa importante forse sarebbe anche il caso di ritradurre o di tradurre quei saggi in cui Ben-Bawerk affronta questo problema però ragazzi miei si tratta di cosettine un po' pesanti e io la mia età me la voglio me le voglio me le voglio evitare la profonda revisione ecco questa revisione della teoria marziana del valore che Ben-Bawerk auspicava che Ben-Bawerk auspicava perché perché tutto sommato non disconosce a Menger a Marx questa attenzione per il problema sociale che lui stesso condivideva guardate che ma ma anche Menger in varie opere che non sono che sono state tradotte solo da poco in questa scambio valore capitale in quell'altra raccolta di saggi mengeriani che ho curato come non un altro Menger anche Marx anche Menger citava Marx citava Marx e qui arriviamo al punto al punto della teoria del valore e ovviamente gli austriaci erano consapevoli di aver rivoluzionato i termini della teoria del valore Menger dice che il liberalismo razionalistico unilaterale di Anda Smith e dei suoi seguaci porta inevitabilmente al socialismo come dire che una teoria oggettivistica del valore porta al socialismo naturalmente la cosa sembra un po' così i liberali smittiani si trovano ma anche Hayek sa benissimo le cose fa un'operazione culturale nasconde il rapporto il legame il fondamento smittiano della teoria del valore della teoria del valore di Marx un problema che Menger non affronta ma è chiarissimo in quella parte della storia critica della teoria del valore dell'interesse del capitale in cui questo rapporto come ha detto bene Pavanelli viene messo in luce un anno dopo che Marx che Menger aveva fatto questa affermazione il liberalismo porta inevitabilmente al socialismo abbiamo Ben Bavere che ci spiega tutto e quella parte poi riconcluirà nel saggio di cui noi stiamo parlando la conclusione del sistema marziano certo Riccardo è un'altra cosa cerca di porci di porci una pezza però a furia di pezze noi otteniamo qualche altra cosa che è il marzismo attuale ossia qualcosa che si chiama marzismo ma che è che da un punto di vista concettuale comprende cose completamente diverse che con Marx non hanno non hanno niente non hanno niente a che vedere certo Ben Bavere che dice che Marx era un po' uno che si attorcigliava si serviva della dialettica hegeliana per attorcigliare le cose e renderle un po' e renderle un po' incomprensibili cosa ne sapeva cosa ne sapeva Engels quando fa la sua famosa revisione del 93 se non sbaglio sì ne sapeva qualcosa perché nella prefazione addirittura c'è Menger il best tra i sostenitori con Bernard Shaw di una teoria etica del socialismo forse confonde il Menger Karl col fratello Anton sul quale poi comunque ben sapevano di che cosa stesse parlando tanto che c'è un durissimo attacco da parte di come si chiama quello lì scusatemi non mi viene Kowski di Kowski ma queste sono tutte altre cose quindi in questo libro è contenuta una tale ricchezza di riferimenti il fattore tempo il socialismo di Smith e Menger sì insomma tutti questi sono temi abbiamo cercato di elencare un po' di temi che rendono un po' l'attualità di questo pesante e pedante e pedante e pedante scritto che sostanzialmente ci illumina su come su come si è cercato nell'ambito marxista del marxismo di rimediare a queste insufficienze però queste insufficienze sono percepite anche certi studiosi del marxismo dico fare un esempio Stefano Petrucciani di questo si rendono conto e noi abbiamo sulla base di questo qualcosa non risolto un attorcigliarsi del marxismo un cercare di inglobare cose diverse per cercare di rimanere in vita cercando di mantenere l'etichetta l'etichetta marxismo o economia o economia marxista con delle cose invece che sono passate nel linguaggio comune come ho detto precedentemente la questione dello sfruttamento e della e dell'alienazione qualcosa che rimangono e che sono diventate a patrimonio anche di altre tradizioni del pensiero e le quali pensano che tutto sommato questa sia la parte viva di marx anche se la spiegazione economica è insufficiente e che questo sia un problema ma soprattutto che questo problema possa essere risolto e tramite un intervento dello stato questa è la cosa è la cosa fondamentale possiamo dire in termini molto generici che se a un certo punto il pensiero liberale confidava molto nella mano invisibile quella che Menger definiva un'oscura metafora e un'allocuzione insignificante perché cercava di spiegare perché si realizzassero degli scambi anche se il valore dei beni scambiati fosse diverso e quindi c'era bisogno di qualcosa di trascendentale che portava a questo e questo porta anche a capire l'attacco degli austriaci a Smith a Smith il quale a un certo punto sulla base di questo per favorire gli scambi pensava che un intervento dello stato favore della classe lavoratrice avrebbe portato una maggiore ricchezza che avrebbe favorito maggiori scambi e quindi un maggiore benessere comune e in definitiva quella ricchezza delle nazioni e che poi quando si parla di Smith viene un po' trascurata ma era nel titolo perché la ricchezza delle nazioni poteva essere ottenuta solo tramite tramite chiaramente Ben Baver e gli altri austriaci ma Ben Baver forse in particolare non pensavano assolutamente che fosse inopportuno qualsiasi tipo di intervento dello stato o della politica in generale e questo si può motivare per una questione fondamentale che è una questione del tempo del tempo talvolta noi abbiamo necessità di certi risultati che possono essere raggiunti più lentamente tramite un mercato un tema a cui AIEC si rende conto di questo e ci porrà rimedio con la catalassi così è il sistema più veloce di trasmissione di informazioni tramite prezzi che consentono agli individui di fare previsioni attendibili sulle realizzabilità delle loro aspettative ora il problema è il mercato è più veloce della politica nel produrre certi risultati questo rimane un problema aperto ma rimane un dato acquisito è quello che aveva messo in luce AIEC nei saggi sulla pianificazione tanto per tornare al termine ossia che non è possibile che i politici abbiano una conoscenza tale conoscenza al di là del metodo di interessi eccetera eccetera una conoscenza tale che consenta di che permetta di conseguire questo risultato più più velocemente ora qui la finisco ecco a partire da Ben Baber che si può parlare di tutte queste cose quindi anche del del problema ma il mercato è più veloce della 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 politica nel cercare di fornire di realizzare le aspettative individuali o si deve limitare a fornire a fornire un quadro la politica in questo in questo contesto è una è un approccio completamente sbagliato oppure ripensando all'importanza del fattore tempo noi possiamo essere per certi versi più possibilisti tenendo però conto di quello che aveva detto Hayek circa la catalassi e circa la capacità dei politici di immagazzinare e ritrasmettere conoscenze ora il fatto è questo certamente i politici possono possono determinati politici che non esistono nella realtà e possono tenere presente tutte le aspettative individuali e poi elaborare una soluzione e poi ritrasmetterla alle masse ottenendo il risultato ma questo è praticamente impossibile intanto per una questione di nuovo di tempo tra il accentrare la conoscenza ritrasmetterla e in quel tempo là le aspettative sono cambiate e quindi qualcosa non funziona più e questo vale anche per l'intervento dello Stato quando interviene sostanzialmente interviene per interviene in un contesto in cui le aspettative individuali sono cambiate soprattutto pensiamo ora in un'epoca in cui le aspettative individuali e sociali si formano in maniera completamente o quasi completamente indipendente indipendente dalla politica e poi è una questione di tempo il grande tema il grande tema di Ben Baverk il grande tema di Ben Baverk non soltanto per la teoria economica ma anche per la teoria politica Tukur e lì siamo sempre lì questi personaggi Ben Baverk e Wieser erano letti poi certamente non dobbiamo neanche spaventarci più di tanto da due cose che Mises e Hayek ne parlino ne parlino poco beh per certi versi è vero però la lezione l'avevano acquisita e comunque erano andati avanti nel risolvere questi problemi e questi problemi teorici e questo penso sia l'attualità e la validità di questo di questo saggio che merita un po' di fatica eh d'altra parte anche per per metter per per trarne queste conclusioni ne ho messo anch'io non è che voglia essere ripagato secondo il lavoro che ci ho messo ma insomma è tutto questo dico la verità mi sono divertito e poi la valutazione chissà non è non è qualcosa non è qualcosa che dipende da me io so solo che mi sono divertito e questo e questo ci sembra e mi sembra come dire una cosa fondamentale nel parlare dell'ascoltare il professor Kubetu su i casi in cui l'intervento pubblico l'intervento statale potrebbe essere necessario proprio per cercare di utilizzare il tempo quindi di velocizzare la ricerca di soluzioni mi è venuta in mente la serata che abbiamo fatto la settimana scorsa sulla in qualche modo la pandemia perché credo che il caso di finanziamenti massicci andati alle case farmaceutiche indirizzati dagli vari stati dal vario potere politico possa forse questo essere un esempio pratico di un'eccezione alla regola per cui il mercato in qualche modo funziona meglio in quel caso c'è stata la necessità di far convergere tutta una serie di fondi affinché poi la ricerca del vaccino potesse essere raggiunta il risultato potesse essere raggiunto in un tempo nettamente inferiore di quello che probabilmente sarebbe stato se ci fosse stato esclusivamente la ricerca del profitto e quindi una ricerca standard senza un'emergenza quindi questo credo che questo questo è il tema del risposto il mercato è un'istituzione come tutti gli altri di fronte alle emergenze come si può reagire questo è un grande tema però di filosofia è un grande tema della filosofia politica in cui ci serve essenzialmente quella dimensione del tempo che è la dimensione di Ben Baber ecco questa è fondamentale questo e poi insomma mi sono dimenticato di dire anche dell'importanza degli studi di Ben Baber che sull'interesse sulla remunerazione sulla remunerazione del capitale detto così in termini in termini semplici non la filosofia chissà quanti schemi e quante formulone ci avrebbe fatto e ci avrebbe messo in tilt più di quanto ci mette in tilt Ben Baber però insomma questo tema esiste e bisogna e bisogna rendersene conto come bisogna rendersene conto si tratta di casi in cui l'intervento ma fidarsi della politica è sempre molto rischioso perché certamente è vero quello che hai detto tu Lorenzo però è anche vero che questo successo è stato ottenuto anche per via di una compressione delle libertà individuali poi insomma sono cose difficili ma quando si tratta di emergenze insomma talvolta si deve andare poco interessante avere la determinazione di tornare indietro esatto infatti io mi ero concentrato esclusivamente sulla questione della ricerca e dell'ottenimento di vaccini non tanto poi tutti i temi collegati su lockdown green pass e altro però appunto per ottenere il vaccino in questo caso probabilmente nella maniera necessaria e veloce fatto nel tempo rispettato credo che questo sia stato un caso in cui difficilmente si poteva raggiungere nello stesso modo anche esclusivamente dal mercato poi uno dei temi che e poi facciamo magari un brevissimo un breve secondo giro di tavolo è uno dei temi fondamentali che viene trattato anche nel saggio di Bombave che è esattamente che cos'è lo scambio perché tendenzialmente c'è questa concezione per cui lo scambio dovrebbe esserci uno scambio tra uguali e quindi in qualche modo si dovrebbe trovare appunto il valore oggettivo del valore in qualche modo invece esattamente qualunque persona abbia banalmente riflettuto sa perfettamente che lo scambio avviene proprio perché c'è una diversità soggettiva di valutazione delle merci che vengono scambiati chi vende ovviamente pensa che il valore dei soldi sia superiore rispetto all'oggetto di cui si priva e chi compra pensa esattamente il contrario e questo permette appunto sulla diversità di valutazione soggettiva di produrre valore aggiunto per entrambi quindi il processo di mercato il processo di scambio è un processo che per definizione non è a somma zero ma appunto produce valore per chiunque partecipi in maniera libera e volontaria alle transazioni la premessa e qui è bombaver che poi c'è la parola a Pavanelli la premessa secondo cui nello scambio di due cose deve manifestarsi un'uguaglianza delle stesse mi sembra ben poco moderna cosa che in fondo potrebbe non avere alcuna rilevanza ma anche ben poco realistica o in parole povere concepite in maniera errata dove regnano perfetta uguaglianza e perfetto equilibrio non sopraggiunge alcun cambiamento nell'esistente stato di quieto così se nel caso dello scambio la cosa si conclude con il fatto che le merci cambiano di proprietario ciò è piuttosto segno che esisteva una qualche disuguaglianza o un'eccedenza che ha provato il cambiamento perché appunto il mercato in qualche modo il liberalismo è una teoria del disequilibrio in qualche modo perenne nel tentativo continuo di cercare di raggiungere un equilibrio che fisiologicamente non si raggiungerà mai proprio per questioni come dire ontologiche se ne concedete questo tipo di espressione Professor Pavanelli la replica a lei se si mette l'ho mutata io dovrebbe smutarsi in basso a sinistra c'è attiva audio perché se non si sentiva l'eco attiva audio in basso a sinistra c'è un tasto dovrebbe trovarlo e poi possiamo ascoltarla se no diventa difficile no è ancora disattivato ok credo che sia una questione esclusivamente tecnica eccoci qua l'ascoltiamo ok perfetto allora beh dunque gli spunti e le idee che sono uscite stasera sono sono molte e credo veramente materia di inflessione ce ne sia parecchia io volevo così due o tre collegarmi a due tre spunti che solo provare a lanciare anche se poi naturalmente il tempo il tempo manca ma intanto sull'ultima cosa che appunto si diceva sulla sul problema del rapporto tra sul ruolo del tempo ecco qui certamente uno dei grandi meriti sicuramente della scuola austriaca della teoria austriaca e devo dire che tra l'altro uno dei maggiori interessi per me di Bombaver che io appunto avevo sì guardato il saggio devo mettere insomma che questo saggio l'ho riletto attentamente poi in occasione di questo seminario l'avevo letto ma di Bombaver mi interessava moltissimo la teoria dell'interesse in realtà e il collegamento in particolare tra Bombaver che è un altro grande economista non austriaco ma uno dei grandi effettivamente del novecento forse non così giustamente ricordato come meriterebbe che è Erwin Fischer perché certamente con Fischer Fischer riprende completamente la teoria di Bombaver che reinterpreta appunto tutta la teoria dell'interesse in chiave molto innovativa al punto che appunto uno dei riprende tra l'altro Fischer uno dei grandi meriti degli austriaci che di avere ripensato il valore del capitale appunto non in base a quello che è costato realizzare un pianto produttivo se produce se produce cosa che nessuno vuole il valore di quell'impianto si avvicina a zero anche se è costato milioni di ore o giornate lavorative le acceglierie famose che magari le cattedrale nel deserto ogni riferimento ai banchi a rotelle è puramente voluto mentre invece il valore dato da quello che è diciamo il valore attuale del flusso di quello che deriva dal capitale questo è uno dei grandi veramente contributi degli austriaci e ripreso pienamente pienamente da Fischer della teoria contemporanea poi ecco sulla certamente i classici ecco colpisce ci si chiede no Smith questa teoria oggettiva no un autore così così anche così sensibile così e così e così un classico come Smith ecco qui mi ricordo fra l'altro una frase di Givons che mi ha sempre colpito nella sua prefazione della della teoria appunto della sua teoria che scrive nel 71 insomma uno dei fondamenti del paradigma classico paradigma originalista lui parla addirittura questa metafora che a me è sempre piaciuta molto il carro dice lui accusa insomma accusa critica Smith in particolare Riccardo ma anche John Stuart Mill di aver spinto il carro della scienza economica nella strada sbagliata nella direzione sbagliata mentre invece andava spinto nell'altra direzione c'è un bivio e Smith prende quella direzione certamente è vero questo è una delle grandi temi mi ha sempre colpito ecco che potendo scegliere una strada diversa invece Smith e Riccardo si spingono su quella strada del valore oggettivo questo è uno dei grandi temi il carro della scienza economica che va fuori strada insomma come dice Givos sicuramente è un tema se posso così ecco io mi piace anche ogni tanto insomma non parliamo sempre male Smith accidenti Adam Smith ecco però insomma l'idea che il lavoro il lavoro come come base ecco è vero che poi lui lo interpreta in modo riduttivo Riccardo ancora di più però insomma il lavoro manuale intellettuale ricordiamoci che cavolo cioè se vogliamo creare valore il lavoro mettiamoci il lavoro imprenditoriale l'attività imprenditoriale l'innovazione insomma il lavoro in un senso un po' più ampio ecco che non che non certamente quello di Max ecco un'ultima cosa che posso permettermi appunto e poi cedo veramente la parola Raimondo ecco sulla su su Menger una domanda che ti faccio abbiamo parlato di ripubblica ecco ma i famosi articoli perché Menger nasce insomma fa il giornalista per diversi anni e scrive molti articoli di economia e è una delle tesi che ho trovato insomma che lui Menger proprio facendo il giornalista economico si accorge dei limiti della scuola della dottrina classica perché non pensate sono stati ripubblicati in italiano perché non non ho mai trovati questi articoli di Menger giornalista da cui verrebbe fuori poi il suo interesse appunto e la sua esigenza di rifondare ripensare la teoria economica questa è una cosa che volevo chiedere a Raimondo rispondere subito allora da una parte sì certo il problema hai ragione hai ragione però c'è una complicazione da una parte ci sono gli scritti su Anda Smith che erano stati completamente trascurati tanto che ci sono delle persone che dicono che era un estimatore di Anda Smith ma anche da poco hanno tradotto in inglese gli errori dello storicismo e hanno detto che era un estimatore di Anda Smith una cosa ha completamente campata in aria per non dire A C C C Z Z e questa è una cosa e lì si ricava tanto da quegli scritti si ricava tanto ora noi in parte li abbiamo li abbiamo tradotti me non me non me non tanto di capello me non e io però c'è un problema c'è un problema che Menger sicuramente abbiamo la percezione che abbia scritto parecchie cose ah dimenticavo quando l'arciduca l'arciduca Alberto che era lo zio di Francesco Giuseppe quando il nipote Rodolfo che era gli manda un articolo dice queste cose sono ispirate da quel socialista socialista di Menger e questa è una cosa ben curiosa l'occhio dell'imperatore chiaramente forse a corte era troppo era un sovversivo un liberista sovversivo in quanto liberista no liberista non userei non userei questa parola perché dei liberisti italiani non se ne occupa mai e non sapeva neanche chi si sapeva chi fossero vabbè perché una serie di cose però è un'altra è un'altra cosa che volevo che volevo che volevo dire a corte perché scelgono Menger per fare l'educatore l'insegnante di economia del 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 principe del principe ereditario beh insomma questo però abbiamo fatto questo libricino questo libricino che si intitola un altro Menger un altro adesso lo faccio vedere un altro Menger con liberi libri e lì puoi trovare tante risposte a questo problema però c'è un'altra cosa che sostanzialmente adesso gli studiosi di Menger che vanno per la maggiore e sono inglesi inglesi che non conoscono il tedesco e i tedeschi che non capiscono che non che non lo capiscono sono ugualmente tanti non so che che non capiscono Menger sono ugualmente tanti però c'è una cosa che tutto sommato quello che sapevamo circa la produzione di Menger è qualcosa che derivava da quella appendice bibliografica che aveva fatto Hayek al quarto volume delle Collecche Duor ora lì ci sono delle cose sbagliate come indicazioni e tante cose non ci sono non ci sono perché per un motivo molto semplice perché Menger in quanto professore e in quanto educatore del principe non poteva mettere il nome su tutte le sue cose che scriveva sui giornali liberali della Vienna di allora giornali liberali e antitedeschi non dimentichiamolo e antitedeschi quindi sostanzialmente noi di questi ne abbiamo ritrovati alcuni che per motivi che per motivi sì che siamo sicuri che siano attribuibili a Menger per quello che c'è scritto compresa il necrologio dell'arciduca Rodolfo che appare anonimo ma è chiaramente di mano di mano mengeriana però bisognerebbe andare a vedere tutti i giornali ai quali Menger collaborava e come fai a parte il fatto che sono scritti in gotico ma questa è una cosa materiale però sostanzialmente come fai a dire che era di Menger sappiamo che scriveva tanto però distrusse tutte le sue carte eccetera 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 certo aveva questa sensibilità che esprimeva in queste cose però non poteva non poteva firmarle e questo è un bel campo è un bel campo di ricerca ecco quindi sostanzialmente è vero quello che dice Hayek nelle sue opere teoriche non troviamo nessun riferimento a queste questioni o riferimenti molto sfumati e molto e molto così di stile di stile accademico però questo qualcosa questo qualcosa c'è solo che venirne a capo è molto è molto difficile perché sostanzialmente anche tutte le carte mengeriane che sono depositate da Duke University che sono cose sostanzialmente da quel tuo punto di vista inservibili sono appunto le cose principali lui le distrusse sostanzialmente perché perché per motivi forse anche per motivi politici e forse c'erano delle corrispondenze con Rodolfo e via di seguito che dopo quello che era successo nell'89 non era il caso di lasciare che venissero che venissero certo se c'era da imbastire una polemica non si tirava indietro no? non si tirava indietro fu il caso di Schmoller fu il caso di Luger il sindaco di Vienna però curiosamente voglio dire una cosa Giovanni sostanzialmente quando che lo avevano accusato di peccati ben meno gravi di quelli di quelli di cui lo accuserà il diabolico Pantaleoni che sinceramente non ci aveva capito nulla o ci aveva capito molto poco il famoso plagio la famosa accusa di plagio di Gossen e via di seguito ora a parte il fatto che ha accertato che allora non lo conoscesse e a parte il fatto che era una cosa completamente diversa ora a questa accusa Menger rimane del tutto indifferente proprio non gliene frega non gliene frega nulla e soprattutto mi viene da dire tu hai esatto la parola liberisti lui aveva dei rapporti con gli italiani aveva una grande stima di Cossa che recensisce fa una prefazione a Montemartini fa una prefazione o meglio c'è un saggio introduttivo un saggio di Menger nel libro di Eteocle e Lurini sui problemi del valore nell'Austria-Ungheria di bimetallismo però niente con i liberisti proprio niente con i cosiddetti liberisti niente e anche i liberisti poi dimostrano nelle loro opere di non averci capito molto perfetto professor Filoso se vuole applicare anche lei un secondo giro di tavolo grazie intanto sì soltanto una riflessione a parte gli aspetti analitici che ho cercato di affrontare mi viene in mente che che Bonbaver ci ha insegnato a prendere sul serio Marx Marx si è proposto nella storia del pensiero socialista come colui il quale voleva dare delle basi scientifiche a quello che i socialisti precedenti argomentavano in maniera confusa o su basi più o meno emotive con riferimenti non particolarmente rigorosi Marx ha la pretesa e questo bisogna riconoscere di cercare di inquadrare i temi del socialismo in maniera rigorosa su questo piano Bonbaver che gli risponde quindi è colui il quale veramente gli come dire gli toglie un po' il terreno sotto i piedi quindi è vero quello che Raimondo e Giovanni facevano notare che dopo la critica di Bonbaver che sicuramente il socialismo diciamo su questi aspetti fondazionali della teoria del valore lavoro non ha più molto da dire questo mi sembrava insomma mi sembra importante farlo rimarcare e ci sono io insomma rileggendo un po' la letteratura ho notato di alcuni apologeti tardi apologeti di Marx che sostengono che il solo applicare il metodo algebrico alle questioni che sollevava Marx era un tradire le intenzioni analitiche di Marx e questo mi sembra veramente credo se ci si pone completamente al di fuori delle regole del confronto scientifico qua stiamo parlando di confronto logico allora non si sa diciamo poi a che cosa ci si può appellare perché siamo poi nel regno dell'arbitrio più assoluto e insomma questo mi sembra una cosa che invece spesso non viene notata che nel pensiero marziano esistono tanti aspetti interessanti che poi vengono diciamo un po' tenuti a bada per esempio il fatto che Marx aveva una grande considerazione del progresso tecnologico ed è probabilmente diciamo uno degli economisti che in qualche modo ha previsto quello che è poi diciamo l'aspetto fondamentale della teoria della crescita contemporanea in cui la tecnologia è il motore ultimo della crescita e Marx questo l'aveva l'aveva capito poi non si mantiene particolarmente coerente con questa intuizione nota che però diciamo la sua idea che nel in questo stato ipotetico socialista ci sarebbe un'efficienza maggiore un'efficienza tecnologica maggiore perché l'innovazione tecnologica sarebbe adottata molto più facilmente chiaramente questo diciamo è nel mondo di Marx in cui non esistevano discorsi sugli incentivi a introdurre le innovazioni e i processi produttivi quindi non si sa bene poi come questo sarebbe potuto avvenire materialmente però rimane di fondo l'idea che il motore della crescita sia di origine tecnologica questa è sicuramente un'idea che rimane un po' isolata non viene integrata completamente nel processo di sviluppo però secondo me è importante recuperare di questo pensatore che poi ha affrontato veramente in una maniera come dire con un orizzonte enorme tutti i problemi sociali i problemi economici e quindi c'è sicuramente qualche cosa di importante chiaramente abbiamo dimostrato che la sua teoria del valore lavoro non non supera il test minimo di una teoria che è quello della coerenza interna questo la prima certo vuole edificare sul socialismo su basi scientific che dice lui in realtà come mostra Ben Baver che lo cerca di realizzare su basi dialettiche il che è tutto un'altra è tutta un'altra cosa il secondo sull'innovazione sull'innovazione beh insomma la grande svolta da quel punto di vista là è quella che aveva fatto quella che viene riconosciuta a Menger col tasso di sostituzione dei beni nel soddisfare i bisogni lì hai l'apertura del problema della tecnologia ossia che con la tecnologia puoi soddisfare certi bisogni con altri beni che sono diventati scarsi sempre ammesso che i bisogni rimangono gli stessi ora il problema è che se noi sostanzialmente diamo uno come dici tu Marx la tecnologia ma questo presuppone che il sistema rimanga fermo se queste tasse di sostituzione non modifichi le aspettative individuali se modifichi le aspettative individuali tutta la complessa architettura anche del calco della teoria economica generale va a farsi della teoria di equilibrio economico generale va a farsi benedire perché è una questione di tempi che non corrispondono le aspettative si modificano più velocemente e poi soprattutto se noi abbiamo uno sviluppo tecnologico come questo che è velocissimo non abbiamo nessuna idea di come si distribuiranno le opportunità offerte dalla tecnologia modificando completamente le aspettative quindi quello che voglio dire tutto questo va bene forse gli austriaci avevano intuito più di altri però ora ci troviamo di fronte a un altro staff che prima poi arriva la pianificazione e di Ben Bavre che non sappiamo più cosa farcene perché i problemi sono diversi ora abbiamo questa innovazione tecnologia così repentina per cui noi ci poniamo il problema ma il sistema può tornare in equilibrio un mercato può tornare può tornare può avere una certa stabilità quel tanto di stabilità che consenta agli individui di fare delle previsioni attendibili sul costo sulla realizzabilità e il costo delle loro aspettative oppure troppo veloci sono le innovazioni e tanto più noi andiamo in un sistema in un sistema imprevedibile e questo questa è la grande sfida ma io penso che per queste cose proprio per la questione del tempo che di cui si diceva Ben Bavre che possa possa aiutare forse è il caso di riprendere in considerazione quei saggi sul tempo che non sono stati non sono stati tradotti e infatti prima di arrivare ai saluti e ringraziamenti volevo fare la classica domanda che faccio quando ci sono dei classici ovvero perché posto che sia così un ragazzo un ventenne una ventenne oggi dovrebbe leggere Bombaverk perlomeno questo saggio che abbiamo presentato questa sera al di là del fatto che a me sembrerebbe più che sufficiente che i due capitoli il terzo e il quarto distruggono dal punto di vista logico e ovviamente non è una delle letture più facili ma altrettanto ovviamente è molto più facile questa che leggesi tutto il capitale e quindi questa per me è già sufficiente una motivazione volevo chiedere se ce l'erano altre per cui un ragazzo oggi dovrebbe leggerla e se avete un altro testo di Bombaverk da suggerire da leggere partiamo dal professore Pavanelli e facciamo è aperto è aperto perfetto beh dunque provo a essere molto veloce vista l'ora beh certamente per un ragazzo è un problema allora la mia risposta è Bombaverk ci insegna anche un metodo oltre a un contenuto che è fondamentale c'è un metodo ovvero quando devi affrontare insomma ti trovi di fronte a un autore scomodo ma è comunque come Marx devi devi affrontarlo seriamente come si diceva prima cioè entrare nel suo modello studiare lavorare seriamente su quel modello e provare a smontarlo dall'interno quindi occorre quindi il metodo è il metodo appunto del lavoro e cioè non esistono scorciatoie insomma e se vogliamo procedere in modo rigoroso il metodo di Bombaverk è quello che ci insegna molto e l'altra ecco l'altra questione che mi avevi che è stata posta un altro testo di Bombaverk da suggerire dunque mi cogli ma dunque Bombaverk ha lavorato c'è in realtà le questioni monetarie ecco su questo perché Bombaverk ha svolto attività tra l'altro di policy policy maker forse ministro delle finanze ministro delle finanze due volte ministro delle finanze due volte si è occupato molto di tematiche monetarie che in realtà si conoscono fino a un certo punto l'Austria dal punto di vista monetario era anche una situazione molto singolare se non sbaglio era monometallismo era sull'argento non è famoso tallero il tallero di Maria Teresa c'era il sistema austriico ma ungherese che era diverso vabbè comunque ecco però gli studi monetari io credo che non so se sono tradotti in italiano sono assolutamente pesanti sì vabbè questo lasciamo ai gusti mi hanno sempre incuriosito ne ho letto ben poco di studi monetari però quel tema lì a me piaceva piace molto grazie Valerio Filoso stessa domanda perché leggerlo è un altro testo credo che abbiamo già detto ampiamente perché perché il rigore di Bonbaver è ancora un modello di onestà intellettuale e di disamina diciamo serena degli argomenti altrui non capita spesso per esempio che negli scritti di Marx si arrivi all'invettiva personale cosa che insomma non gli fa onore in certi in certi frangenti Bonbaver che diciamo con il suo stile austriaco non non si lascia andare a certe cose magari di carattere non era così fumantino come come Marx quindi gli altri libri da leggere di Bonbaver che chiaramente sono gli scritti che il Raimondo ci proporrà nei prossimi anni che selezionerà e quindi quelli più importanti e che su quali ci troveremo a discutere anzi questo è il questa domanda mi dà l'abbrivio per fare una domanda a Raimondo cioè se esistono dei scritti di Bonbaver che sulla finanza pubblica se lui si sia occupato anche essendo stato ministro delle finanze si abbia scritto qualcosa sulla finanza pubblica dal lato per esempio delle entrate della spesa giustamente da scienziato delle finanze e quindi grazie non saprei rispondere sicuramente esistono bisognerebbe vedere quelle due raccolte di scritti minori di Ben Baver ma sono due cose enormi insomma bisogna fare una certa una certa selezione beh insomma io concordo con tutto quello che avete detto voi aggiungerei che è un esercizio di resistenza un po' come il matrimonio Ben Baver che bisogna bisogna mettersi alla prova ed è un esercizio di resistenza è una cosa che bisogna come diceva Tocqueville non è una cosa che bisogna portare a termine con onore se devo indicare due cose beh noi abbiamo non so se le abbiamo ancora a disposizione perché erano edite dall'archivio Guido Itzi delle cose di Ben Baver la teoria del capitale la teoria del capitale del tasso di interesse non ricordo il titolo in tre volumi tradotta e curata da Enzo Grillo è una lettura istruttiva anche se ovviamente molto molto superata nelle sue parti descrittive eccetera eccetera e poi suggerirei per uno che invece può fare una cosa un approccio più soft più legge 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 o potere potere legge economica potere o legge economica che è stato curato da Lorenzo infantino ovviamente è pubblicato è pubblicato da Rubettino lì andiamo un pochino più sul sul più leggero più accessibile ma un libro di grande di grande accume di grande accume ok prima di arrivare ai saluti settimana prossima diciamo che ci avviciniamo ai cent'anni della marcia su Roma e da liberali antifascisti oltre che anticomunisti avevamo già previsto questa serata molto tempo fa e crediamo che sia importante perché il libro di Don Beniamino di Martino stretto nel fascio nazifascismo contro l'individuo che cerca di individuare i collegamenti tra nazismo fascismo e socialismo sia importante in più insieme all'autore ci saranno due professori di vaglia cioè Francesco Perfetti che è stato professore di storia contemporanea alla LUIS e Giovanni Orsina che è professore di storia contemporanea alla LUIS quindi crediamo che sarà un momento importante di riflessione abbiamo l'unico sacerdote austriaco in Italia che è Don Beniamino che sono peraltro anche diventato nostro socio quindi siamo particolarmente contenti di presentare questo volume ringraziamo davvero per le new entry quindi il professor Pavanelli e il professor Filoso grazie di essere stati con noi questa sera e naturalmente grazie a Raimondo per il ritorno e poi si sarà con noi anche al nostro duecentesimo evento di cui lo svegliamo per ora nulla grazie davvero a tutti e buonanotte ciao ragazzi ciao grazie grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti